Mi chiamo Lorenzo Cipriani, ho 36 anni e vivo nel nostro quartiere, il Porto Saragozza, insieme alla mia compagna Gloria e al nostro gatto. Sono il candidato presidente del centro-sinistra per il quartiere Porto Saragozza, un quartiere bellissimo che ci guarda da San Luca e arriva fin nel cuore di Bologna. Prendercene cura è un dovere. Voglio impegnarmi per il quartiere coinvolgendo la nostra comunità, fatta di singoli, associazioni, volontari, social street, cittadini che non vogliono limitarsi alla denuncia dei problemi ma sono pronti ad impegnarsi in prima persona per risolverli. La Bologna che mi piace è quella coesa e solidale con chi sta peggio, quella che conosce il valore sociale della cura del territorio in cui viviamo, quella che guarda i giovani e considera gli anziani una risorsa, quella capace di rimboccarsi le maniche per migliorare le cose. Nessuno deve sentirsi escluso, dipende anche da te. Il 5 giugno vota il presidente del quartiere Porto Saragozza. Barra il simbolo del centro-sinistra e scrivi Cipriani.